A Corigliano Rossano, un operaio del Consorzio di Bonifica, stamattina è salito sul tetto della centrale idroelettrica del Cino, minacciando di darsi fuoco se non avrà risposte sulla sua situazione lavorativa. Senza stipendio da otto mesi, nell'indifferenza dei responsabili del Consorzio e la Regione Calabria, è salito sul tetto con una tannica di benzina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l'ambulanza e i carabinieri di Corigliano Rossano.